Sfige un po' che ho visto... ...non rispondo però... ...è vero si viene qualcosa? si viene il chitarrismo si vede... ...manginati ...perfetto io spediamo, ho mangiato troppo mi sembra un problema strutturale però... ...non che sia scacciare i denti ... микan la voce non mi immagino il male che ha avuto ma... ...io prendo quello.... ...non lo sapevo... ...dietro ...non lo sapevo... ...nora... ...non lo sapevo... ...non ci sa pevo... ...non ci sa pevo... ...non ci sa pevo... un applauso a questo ragazzo che sarebbe barbiacchi ma allora è un po' che non si sa per favore ma allora ma io mi sento a me ti sai, sei simbolato ok, e ce la cerco qualcuno e ti auguri un buon ascoltore Grazie. 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 Grazie mille. Qui davanti a noi c'è un sacco di posti. Se volete, si sono liberati un sacco di tavoli. Si, si. Chi vuole venire è benvenuto. Un bello! No, ecco, welcome! vuoi parlare di te? eh vabbè, non so, però... bicchieri che non mi servono? questi mi servono anche questo bicchiere qua è più grosso questo è per l'acqua il salido ci serve più il cappuccetto allora allora no, per me è presto per il cappuccetto potrei avere un'altra adesso mettiamolo no, no, prendete eh no, ecco io voglio comprarmi assolutamente quella roba lì che ha il big nose io te lo bevo dopo perché è quello che fa questo effetto distorto l'alcol basso e poi il pedale diverso è un piccolo malavolta di fare questo è un effetto di overdrive sintica figana quindi non 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 E' un'altra musica. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 a tutti.